Scontro aperto ormai tra sindacati e ASL dopo la protesta dinanzi alla direzione aziendale, un confronto ieri di quattro ore. La ASL parla in una nota di incontro positivo spiegando che i nuclei di cure primarie non sono a rischio, ma i sindacati attaccano dicendo che non c'è stata nessuna risposta e dunque sono pronti a mobilitarsi di nuovo. La posizione dei sindacati, associazione e comitati insomma è diametralmente opposta a quella della ASL, che dice che i nuclei di cure primarie non sono a rischio. Per quanto riguarda in particolare il punto che riguarda i nuclei di cure primarie c'è da dire questo. La ASL continua a dire che non c'è il rischio chiusura. Io qua vorrei far capire una volta per tutte, perché si gioca sull'equivoco, che il servizio di 12 ore al giorno con anche prestazioni infermieristiche che forniscono i nuclei di cure primarie è riservato solo ai pazienti e ai medici che lavorano in quel nucleo. Quindi non permettere i subentri di medici che sono andati in pensione, significa aver comunque tagliato fuori quei pazienti, quei cittadini da quel servizio. Quindi significa che il nucleo può anche restare in funzione a numero inferiore di medici e quindi di pazienti, ma comunque si è tagliato il servizio a dei cittadini. Non funziona come un reparto ospedaliero che comunque o a pieno organico o sotto organico lavora per tutti. E questo è il punto su cui noi stiamo portando avanti il discorso. È chiaro che alla lunga poi questi andranno a chiudere per esaurimento dei medici se non ci sono subentri. È altrettanto vero però che adesso dobbiamo cercare di scongiurare questa situazione con le prossime trattative regionali, che in teoria sarebbero dovute cominciare a marzo, in pratica ancora non iniziano. Quindi la mobilitazione, dottore, continua? La mobilitazione continua, continua assolutamente. Anche per il discorso economico c'è da dire che la ASL ha fatto la richiesta alla regione di chiarimento semplicemente la settimana scorsa. Questo per stessa affermazione del direttore generale. Quindi è un anno che ne stiamo parlando e è un anno in cui si continua ad aspettare e a perdere tempo.